Totale abbandono e scarsa sicurezza è questo quello che lamenta Fratelli di Italia Fano per quanto riguarda il parco dei passeggi. Poco tempo fa avevate organizzato anche un sit-in per lanciare un appello alla Giunta. Sì, un appello accurato per veramente attirare l'attenzione su una situazione di degrado e di totale abbandono di quello che è il polmone verde della città di Fano. I passeggi che dovrebbero rappresentare un luogo di aggregazione dove le famiglie, in particolare le mamme che vanno a passeggio con i bambini, portano i bambini a giocare. Invece troviamo un'area completamente abbandonata con scarsissima sicurezza. Proprio in questi giorni ulteriormente ci segnalano come questi passeggi vengono comunque adibiti a dormitorio piuttosto che a spaccio di sostanze stupefacenti, bivacco fin dalla mattina presto. E appunto con il fatto anche che non ci sia la chiusura di questi spazi, la notte comunque persone vanno, si ricano e dormono. Quindi veramente questa è una situazione inaccettabile, lo abbiamo denunciato più volte attraverso i media, lo abbiamo fatto con un sit-in, quindi con una protesta forte nei confronti di una giunta che non può non accogliere le richieste dei cittadini legittime e soprattutto fondate. La cosa che più ci stupisce è indubbiamente questa situazione che all'esito all'indomani della nostra manifestazione, appunto, per attirare concretamente l'attenzione l'assessore competente, quindi l'assessore Brunori, proclamava, diciamo proprio così, perché sui social con un intervento, con della semplice ghiajino, con il quale si sarebbe dovuto risolvere il decoro e tutto il contesto dei passeggi. Cosa che chiaramente non è, ci troviamo a distanza di un paio di mesi in una situazione ancora peggiore di quella che avevamo denunciato. Dunque, del vecchio nello specifico, quali sono gli interventi che richiedete? Noi chiediamo che tutte le panchine che sono ammalorate vengono sistemate, i controviali vengono sistemati dall'erba che c'è in giro, dalla ghiaia proprio che manca nei camminamenti e soprattutto che venga messa in sicurezza, perché ci sono dei bivacchi continui, fino a qualche anno fa questo polmone verde della città veniva chiuso di notte, proprio per evitare i bivacchi, e veniva anche controllato una volta o due volte al giorno, perché può essere anche luogo di spaccio, di stupefacente, quindi invece essendo un luogo sensibile dove vanno i bambini con le famiglie, è bene che sia ben controllato. E che venga anche sistemato il ponte che è stato realizzato qualche anno fa sopra il canale Albani, che quindi unisce le due sponde, che da dieci anni circa non viene più mantenuta in nulla. Quindi una serie di interventi che il Comune, con non cifre esagerate, potrebbe fare e dare un po' lustro a questo polmone verde, considerando che qui ci sono tanti annunci di parco allo zecorificio, di piantumazione di alberi in altri luoghi, e non si guardano le cose più ovvie, come in questo caso un parco che è utilizzato da tantissimi cittadini, che è l'unico polmone verde al centro della nostra città.